Il progetto Insa Run & Go, da dove nasce questa voglia di metterti in gioco? Sì, sono parte del team Insa Run & Go e sono super entusiasta di far parte di questo team. Per me è una nuova sfida e come tutte le sfide io le voglio accettare con entusiasmo e non vedo l'ora appunto di correre a Milano e spero di coinvolgere tutti i miei concittadini. Vi aspetto il 20 di maggio, quindi cominciate a segnarvi questa data. Per la Poli Miran e cominciate soprattutto ad allenarvi. Ho scelto di abbracciare questo progetto perché per me è fondamentale lo sport a tutti i livelli. Quindi fin da quando si è bambini fino anche a 80 anni finché si riesce. Sia appunto per i professionisti ma anche a livello dilettantistico. E sono convinta che oltre allo sport sia fondamentale associare uno stile di vita sano ed equilibrato ma non bisogna neanche privarsi di nulla perché comunque se si fa sport ci si può meritare anche il dolcetto post allenamento e questa è un po' la mia filosofia di vita. Quali sono i tuoi programmi, i tuoi piani per quest'anno e poi i prossimi anni? La stagione 2018 è già cominciata. Ho gareggiato recentemente a Lugano dove sono arrivata prima. Sono appunto contenta di aver iniziato nel migliore dei modi la stagione. Prossimamente gareggerò ad aprile in Repubblica Ceca per poi proseguire a maggio in Coppa del Mondo. Inizio maggio sarò in Cina. E la gara più importante del 2018 saranno gli europei che saranno ad agosto a Berlino. E poi naturalmente il sogno più grande per cui mi sto già allenando già da diversi anni saranno le Olimpiadi di Tokyo dove spero di poter raccogliere la mia terza partecipazione ad un'Olimpiade e poi chissà, li vedremo, incrociamo le dita. Per me la marcia è appunto la mia più grande passione e ho cominciato grazie ad un infortunio perché io prima correvo, mi piacevano molto le campestri, facevo mezzo fondo veloce, i 400 e gli 800 metri. Però in seguito ad un infortunio mia mamma, Graziella, che devo ringraziare, mi ha consigliato di provare questo sport che inizialmente non mi affascinava tanto, non mi piaceva però piano piano ho iniziato ad allenarmi, ho iniziato a fare le prime gare dove arrivavo ultima con le persone più anziane che mi passavano la spugna però è stata una sfida personale perché nessuno credeva in me. Io invece volevo dimostrare che ce la potevo fare quindi con l'allenamento ho iniziato a fare i miei primi campionati italiani l'anno successivo li ho vinti, ho iniziato le prime nazionali giovanili e quindi è stata una passione che continua tutt'oggi fino a poi sono arrivata alla partecipazione all'Olimpiadi che è il sogno un po' di tutti gli atleti e per me marciare è appunto libertà e sentirmi bene con me stessa anche se comunque la marcia richiede tanta concentrazione e anche tanta fatica perché io solitamente faccio tra i 20-30 km al giorno quindi sicuramente ti deve piacere, ti deve appassionare e poi la cosa che mi piace di più è poi poter gareggiare. Grazie